Ragazzuoli alle 3, ci vediamo tutti su pvpcastle.net sul mio server per fare un raduno sul Bryson Abbiamo aperto questa nuova modalità, lo Sky Bryson e alle 3 tutti lì per fare il pienone E iniziare a costruire la nostra isola con... vabbè, Bryson è normale, più la parte Sky con l'isola Insomma vedrete tutti i nuovi aggiornamenti sul server, mi raccomando non mancate, ci vediamo tutti alle 3 Ovviamente ragazzuoli un bel mi piace per supportare la serie Detto questo, buona visione, lascia like, lascia like Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, ci siamo tornati su Minecraft Ita 7 stagione Allora on dance ragazzuoli, come al solito ho fatto dei lavoretti off camera che voglio farvi vedere subito Allora, 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 leggendo dei commenti mi avete detto che il ponte alla fine dice Il free, sto free, il free di qualche tempo fa avrebbe sicuramente trovato un modo per fare il ponte tutto unito Tutto attaccato, tutto bello, tutto figo Effettivamente sì, l'ho trovato al modo Ora, è un po' bruttino Non è proprio proprio al massimo l'effetto con la lava, però Almeno il ponte viene fuori tutto Eh, dai, dai Ora, perché non venite qua? Eh, infatti, andate addosso là, mori Bellissimo Poi, altra cosa che si nota subito Che cosa si nota subito? Eh, effettivamente questa roba qua È tutto Oh, zio Zio Zio, tranquillo, con calma No, che mi sta praticamente spaccando male A parte che ho un looting a bestia, quindi potrei prendere un botto di roba Però, mori Ok, non mi ha dato un botto di roba Correte un po' Guardate un pochito, un pochito, un pochito Abbiamo Ho arato tutto, quindi alla fine potremo andare subito a piazzare del grano Ma prima andare a dormire perché se magari mi spawna qualche mob Ora, la cosa figa è che non mi possono spawnare i mob in questo modo Che vuol dire che sulla terra arata Comunque la farmland Non possono spawnarci i mob E quindi questo è già un grande vantaggio da parte nostra perché non spawnano mob Ora, dormiamo, mettiamo un po' di semi E poi iniziamo effettivamente con l'episodio di oggi Questi sono i semi che abbiamo raccolto Ora, effettivamente sono parecchi Però, non so se basteranno Non credo, sapete perché? Guardate, è molto grande quella zona Quindi E poi secondo me sarà figa un botto Voglio poi fare delle modifiche in merito Voglio mettere degli armor stand Voglio fare un po' di roba Ma questa la faremo successivamente Adesso voglio iniziare soltanto a mettere i semi Sperando che non mi crolli qualcuno sopra Devo alzare anche queste mura perché non ci deve spawnare nessuno sopra Infatti sono zone di spawn Che dobbiamo assolutamente limitare E non so attualmente come limitare In senso ci devo mettere delle torce sopra Posso mettere tutte le torce sopra È bruttissimo Quindi Ah sapete che ci posso mettere? Filo spinato tra virgolette Che significa Ci mettiamo le fence Ah ho fatto anche le torri lì Le ho migliorate un pochino Sulle cose ci possiamo mettere le fence Così non ci spawna nessuno E non può oltrepassarle nessuno Quindi sì Bella idea Cioè nel senso Guardate Erano 3 stack e 11 3 stack e 11 sono solo questi Madonna È ingrosso come il campo di grano È veramente grande Però secondo me verrà figo un sacco Ma veramente figo Poi ci mettiamo qualche spaventa passerino In mezzo Qualche cosa Volevo prendere delle Delle ninfee Messo anche le ninfee Qua sopra Almeno non c'è possibilità di cadere nell'acqua Meglio E niente Adesso dovrò aspettare Che cresca il grano Raccoglierlo E aumentare Faremo una quantità di grano E aumentare i semini Piano 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 Vabbè piano piano Adesso Iniziamo proprio col vero e proprio episodio di oggi Che è quello su cui dobbiamo lavorare Ragazzoli Ho cotto Un po' di stone Perché Stone brick insomma Perché dobbiamo fare una cosa adesso Mi è venuto in mente Che ci servirebbe un tempio là sopra Ma prima del tempio Dobbiamo fare Dobbiamo trovare il modo Su come arrivarci Verso il tempio Quindi l'idea È quella di fare Un pochito di scale Così E un pochito di scale così Tac Fare qualche slab da una parte Qualche slab dall'altra Ok 60 slab Facciamo Ecco Qualche altro slabino 1,2,3 E 4 Quindi Dici ho 24 Giustamente 24 Abbiamo un sacco di roba Nell'inventario Para costruire Lo facciamo in due tonalità Diverse E via Allora l'idea è quella di salire Intanto da qua Partire Largo 3 Per forza Largo 3 Mi fai Un due cosi così Tac E poi ce n'ho 1,2,3 appunto Per andare dall'altra parte Slab alla mano Slab alla mano Ma io sapete forse neanche Vabbè Sì slab alla mano sicuramente Perché almeno facciamo la figata Che è quella di Non utilizzare tutti i blocchi Per quanto riguarda La parte slab Roba interessante Facciamo tutto Con gli stone brick Quindi No questo sotto non ci va Quindi facendo una cosa Very easy Tac Tac Qui ce lo mettiamo tutto E qui invece Soltanto a mezzo In questo modo Easy Very easy Dopodichè Ce ne mettiamo un paio qui E poi riprendiamo a salire Ecco per esempio Qua magari possiamo aiutare Una cosa del genere E partiamo da sta parte Dopodichè dovremo mettere Eh Ah la cosa Ci utilizziamo Utilizziamo un altro blocco Che potrebbe essere La Andesite Per fare i bordi Ok quindi andiamo a prendere Anche l'andesite Bene ragazzuoli E fino a qui ci siamo Ora Ora Questo è largo 3 Giusto quindi Potremmo alzarci di 1 E arrivare Sì io continuerò ad alzarci In altro po' Perché se no davvero su Ci arriviamo domani mattina Facendo una cosa del genere Tac Ci rimetti In altro 1 2 E 3 Stessa cosa metti di qua Però devo Assolutamente Controls Già auto jump Off Porca miseria L'odio profondo Per l'auto jump Dopodichè adesso Vai a mettere Tutta sta fa No 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 Ho cannato la grande Questi li dobbiamo anche togliere E andiamo a mettere Uuuuh Così Riprendiamoci tutto Intanto E poi fai 1 2 E il terzo E appunto Quest'altro qua Tac Tac E tac Bene vediamo un po' Come è venuto il tutto No è carino Per carità A me Mi piace Mi piace Gli mettiamo questa roba qua Solite torce Sulla scalinata E va bene A sto punto Adesso iniziamo a mettere Tutto il resto Da quest'altra parte Quindi Questo lo dobbiamo alzare Partiamo con 1 2 E 3 E andando su Faremo un altro step Faremo un altro step Ma non so se ci conviene A sto punto Cambiato altro giro E' molto attornanti Sta strada Però E' figa un botto Secondo me Oh La sotto cazzo ci mettiamo Non lo so Doviamo riempire con la Con la clay per forza Vabbè riempiremo Riempiremo con la clay Poi fai il giretto Così E che poi mi arrivi troppo su Però zio Eh io ti devo far arrivare Diciamo qua L'arrivo più o meno Deve essere questo Quindi tu Tra una certa Mi ti devi fermare Per forza Per fuerza Para fuerza Perché questi Tiriamo e gli facciamo Altro due scalini Tac Tac Ne mettiamo uno Qua No questa la facciamo Tutta così Ne mettiamo Altri due Così Tac E va bene Dopodiché mi fai Adesso ti fermi un attimo Mi fai il tuo bellissimo Cosino Qua Mi tiri fuori A parte ci dobbiamo mettere Il terzo Poi dobbiamo fare Tutta la roba Qui con l'andesite Così Così E poi la tiri anche Uno più su In questo modo Qua Perfetto Questo lo tiri Uno più avanti Così abbiamo tutto Il coso pronto Facciamo tutto Il giro di qua In questo modo Tac 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 E poi da qui Mi arrivi su in cima Perfetto Bellissimo La scalinata Così l'abbiamo conclusa L'arrivo è Dove lo volevo mettere io Meglio di così Si muore no Fai una cosa del genere Tac 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 E questo lo rimettiamo Di qua Perfetto No è veramente figo un botto Secondo me Perfetto Davvero perfetto Questo lo facciamo per bene Con l'andesite Tac Tac Rompiamo anche questo Così A sto punto lo facciamo anche Dall'altra parte Tanto non è che ci costa Particolarmente tanto Far una roba del genere Ah questo lo dobbiamo mettere così Questo lo dobbiamo mettere così A sto punto rompiamo anche questo sotto E dai Tac Mettiamo le solite torce Per illuminare il tutto Almeno anche di notte Siamo tranquilli Che non spawnano le testine Uno Due Tre Quattro Questo lo dobbiamo togliere E cinque qua Perfetto Rifacciamo tutta la scalinata Andiamo a vedere se è figa Si Beh è figa Oddio È una figata Madonna Gira 78 volte Fai così Eeeh 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 Ci vuole che viviamo 20 anni Per salire qua sopra Però almeno sali Su una montagna E c'hai Poi il tempio Che faremo Tutto qua Bello a vis a vis Che poi ci voglio Qualche altra costruzione Ci vuole No se no Che cosa facciamo noi Signori belli Signori belli Eeeh La casa è figa Un botto Il tempio Sarà figo Un botto Si sono felice Di quello che sta avvenendo fuori Dai sono contento Adesso vado a riempire Le zone qua sotto Perché effettivamente Dobbiamo dargli Un'idea Che non è Non sono scale costruite Sul nulla Però c'è qualcosa sotto Se no è brutto Anche da vedere Non so se poi riempirò Magari con l'andesite Decido Che cosa fare Per ora Li lasciamo Ecco per ora Lasciato così Può andare anche bene Alla fine resta fuori Solo l'andesite Non è un problema Riempio anche questi E siamo a posto Et voilà Finished Non mica da merda Secondo me Sopra Eeeh Eeeh Giri di qua Giri su E vai Tanta roba Tanto che basta Va bene Per quanto riguarda La scalina Che è fatta Poi adesso Ne faremo magari Potremmo Tiè Se proprio vuoi fare Il figo Fai così Anzi Proprio il figo X Fai una cosa del genere Eh Che poi ce l'hai anche paro Beh bellina no Vedi ha fatto Una cosa rara La cazzatina Carina Che sali E c'hai effettivamente Il tutto Va bene Va bene Così siamo tutti felici E contenti Che il pezzo Era fondamentale Che io lo mettessi Va bene ragazzoli Penso che per questo video Possa tranquillamente Essere tutto Un episodio di preparazione Questo Uno dei vari episodi Che abbiamo fatto Nel corso del tempo Di preparazione Per la costruzione Appunto di qualcos'altro Torno a sottolineare Che secondo me È figa Sta scalinata Ci sta No ci sta È carina È particolare È simpatica E va bene ragazzoli Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione E lasciare mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su Facebook E famicione a persone Mi raccomando Passatevi tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ci vediamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi